Musica 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 Friends, How are you? Welcome to my YouTube channel and HSAV Vlogs So, today we are going to do the unboxing GoPro Hero 7 GoPro Hero 7 White I have purchased today So, we will do the unboxing We will do the unboxing And you will see the box content So, if you want to watch the video And if you want to subscribe, please do not like it And don't forget to like it So, let's unbox it So, as you can see I have removed the cover Unboxing It is a little bit different So, you can see This is a plastic case Which is the main camera And there are some attachments And here This is the GoPro bedding You can see it So, you can see it You can see it So, let's open it Let's open it Here we go This is a booklet This is a camera This is a booklet This is a camera This is the camera This is the camera You can see it It's a camera This is a camera This is a GoPro This is a camera In 3 years This is a camera di manuel che nessuno ha studiato, se vogliamo studiare, possiamo studiare, lo faccio, quindi abbiamo messo in questo tipo USB cable, questo è il tipo USB cable, mettiamo anche in questo tipo, mettiamo in questo tipo, abbiamo messo in questo tipo, ho messo in un'applicazione, se mettiamo in un'applicazione, se mettiamo in un'applicazione, che poi anche la chiamo in cui si trovarete tutti i cittori, ci sono due i maini dei che siano potenti, ora ora la prendiamo il l'apparante, come il il nostro come il l'apparante, ora la prendiamo il nostro camera, abbiamo visto il mio gopro di bagging da niente qui è preso e la preso andiamo andiamo e la scuola è la scuola la scuola e 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 la scuola eые partare e giocola , della scuola e la car appare qui a la scuola come questa è la mia camera qui suonare la prima volta qui suonare così come voi potete fare qui poi la mia camera questo è la mia camera la mia camera che è la mia camera che è la mia camera come vediamo come vediamo come vedete 10MP camera con 180p e 60fps e 30 metri 10 metri per l'internale mic è dentro il screen è tutto il touch e 2x slow motion ora 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 il nome è il nome di avere un cordone da una sd card e il nome di un micro sd card il nome è il nome di per il nome di un i sd card sul e per il nome di un è un biglio dovrei vedere come è il vero questo è un prodotto ed è un prodotto qualità vedete io senti su ok un po' di nuovo guardate parola far bella un una si qui 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 d'anno per 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 questo ci c'è credito e video di vedere se sbbskribe e